Buonasera e ben ritrovati, sono la dottoressa Antelmi Antonella, sono una biologa nutrizionista e collaboro da un po' di tempo con la palestra Push Up che saluto e ringrazio. Mi avete chiesto di darvi delle indicazioni per poter preparare una buona cena in questo periodo in cui ci troviamo chiusi in casa e abbiamo difficoltà a preparare dei pasti che sono comunque soddisfacenti ma che non abbiano un introito calorico molto alto. Sicuramente dobbiamo tener conto nel preparare la cena, se stiamo parlando di un soggetto sano o di un soggetto che ha comunque delle problematiche cliniche, dobbiamo tener conto del sesso, dell'età e anche dell'attività fisica. In generale vi dico di cercare di evitare i cibi grassi, quali ad esempio i formaggi, di evitare l'alcol al cena. Molti pazienti sono abituati a bere un bicchiere di vino ma in questo momento considerando che non possiamo comunque bruciare tutto quello che assimiliamo, dobbiamo quindi evitare ciò che di fatto ci fa male anche se ci piace. Allora, come possiamo prepararci una cena? Sicuramente dobbiamo iniziare con una buona porzione di verdura cruda, quindi con una buona insalata di lattuga, di iceberg, lattughino, songino, finocchio, pomodori e carote, condita preferibilmente con del limone perché mi permette di assimilare più ferro da questi alimenti. A seguire possiamo assumere una porzione di pesce, voi mi direte quant'è una porzione all'incirca 150-190 grammi in base appunto all'età e al sesso, alternata ad una porzione di carne bianca tra i 90 e i 130 grammi all'incirca, cotture tutte molto semplici. Possiamo accompagnare questo piatto laddove siamo in una situazione di normo peso con una porzione di pane, preferibilmente integrale e senza sale e alla fine del pasto possiamo prenderci anche un frutto laddove durante l'arco della giornata abbiamo mangiato uno o al massimo due frutti. E' piacevole mangiare il frutto dopo cena perché avendo voglia di qualcosa di dolce per concludere il pasto, il frutto ci permette comunque di soddisfare quell'esigenza di dolce che comunque abbiamo dopo il pasto principale. Volendo, perché no, un paio di volte a settimana possiamo anche prepararci una buona porzione di legumi o sotto forma di zuppa o sotto forma di insalata. I legumi saziano moltissimo, contengono molte fibre e molte vitamine, possiamo accompagnarle con una porzione di pasta o di riso integrale e sempre con verdura cruda. Spero che questo video sia esaustivo, rimango a disposizione per qualsiasi domande e se vi è piaciuto aspetto un like. A presto!